Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovo video Oggi faccio un haul di Shane perché ho fatto un altro ordine Penso sia l'ultimo dei vestiti, parlo almeno, perché ho già altre cose nel carrello Penso che è una delle ultime volte che compro da Shane, almeno per questo periodo e per quest'anno È l'ennesima volta in cui sono rimasta estremamente delusa dalle cose che ho acquistato Tanto che su otto prodotti, sei, vabbè adesso non ricordo, comunque solo due tengo Tutte le altre cose rifaccio il reso perché non mi piace come mi stanno, non mi piace come mi donano Quindi sono rimasta delusa tra virgolette, sono rimasta anche delusa perché ho fatto un ordine grande E il pacco mi è stato diviso in due, non mi hanno messo un prodotto dentro Potrei contattare l'assistenza ma da quello che ho capito devi prenotare l'appuntamento telefonico E sinceramente tanto che questa cosa che non mi hanno messo è una cover per il telefono che ho pagato 50 centesimi Ho deciso di non contattare per niente l'assistenza per dirgli che mancava un prodotto ma di lasciar stare Come sito continuo a piacermi ma sono estremamente delusa da questo shopping Anche se ho altre cose nel carrello quindi prossimamente sicuramente vedrete un altro video del genere Però non comprerò vestiti ma ho altre cose oltre vestiti nel carrello Vando alle ciance dico un po' il servizio come è stato Come sempre io mi sono trovata stra bene con il servizio logistica di Shane Perché appunto mi hanno diviso l'ordine in due pacchi Il primo pacco è arrivato con solo tre giorni lavorativi Mentre il secondo pacco è arrivato in sette giorni lavorativi Quindi sono stati super super veloci Ma adesso vi faccio vedere le cose che ho acquistato e anche come mi stanno addosso Quindi questo è proprio un tricone haul Anche i vestiti che non mi piacciono vi farò vedere come mi stanno addosso Fatemi sapere qui sotto poi cosa ne pensate Come sempre per farvi vedere i vestiti vi allontano un pochino Prima di iniziare a farvi vedere i vestiti indossati vi voglio dire che questo è stato uno shopping per il lavoro È la prima volta che lavorerò d'estate Io soffro tantissimo il caldo Io lavoro in un ufficio quindi c'è l'aria condizionata Però ho deciso di acquistare dei vestiti lunghi in modo che me li posso mettere per andare al lavoro Quindi tutti i vestiti che vedete sono vestiti lunghi Che a me non stanno particolarmente bene i vestiti lunghi E li ho acquistati appunto per andare al lavoro quest'estate Quindi vedrete uno shopping del genere Il primo vestito che vi faccio vedere ma che non vi farò vedere indossato perché non mi entra Parto dal presupposto che a me vestiti lunghi non mi piacciono quindi parte già svantaggiato quest'ordine È un vestito semplicissimo con l'elastico in vita ma in vita era anche largo Mi stava stretto di spalle e di seno La fantasia era anche carina perché aveva questo nero con i fiori Ed è lungo fino alle caviglie Come tutti i vestiti che vedete in questo video saranno lunghi fino alle caviglie Questo è Il secondo vestito che ho preso questo mi sta bene Cioè mi piace molto come mi sta addosso Infatti anche quando l'ha visto mia mamma mi ha detto no questo vestito è bellissimo Il problema è uno di questo vestito non mi piace il materiale Cioè il materiale è plastica è super plasticoso E non è adatto per l'estate perché secondo me ti si appiccica proprio addosso e senti un caldo tremendo Così nero semplice ma di lato hanno dove sta? Eccolo Di lato hanno queste strisce bianche Ed è fatto di poca nottiera non ha le maniche Siamo al prossimo vestito Questo è bellissimo Cioè veramente veramente bello Mi piace come è fatto Mi piace lo scollo Mi piace il colore Amo ma effettuerò il reso Perché o meglio Aspettate non si sa Perché non mi piace Allora un vestito che va dritto così Quindi con le spalle scoperte Mi sta un po' piccolo di seno E io non mi piaccio tanto quando sono scoperta qui perché ho le spalle abbastanza grandi E non mi piace come mi dona addosso Però se non fosse per queste spalle Cioè il colore e come è fatto il materiale è fresco L'avrei tenuto Questo qui dipende Se se lo prende mia sorella Lo darò a mia sorella Mentre se no effettuerò il reso Ma solo e unicamente perché non mi piace come mi sta Perché per il resto sia il materiale è super leggero Il colore Come è fatto mi piace tantissimo Questo è il vestito Anche se Shane e la Fantasia anche mi piace troppo È questo rosso Bellissimo È sempre lungo Ma vabbè sono Cioè di questo vestito mi dispiace un sacco lasciarlo Sono pazzamente follemente innamorata Solo se non mi stesse così male Sarebbe meglio Cioè non mi dona proprio questo Questo scollo diciamo E anche uno spacco laterale Infatti questo qui È uno dei materiali più freschi Secondo me per l'estate L'ultimo vestito Questo qui Cioè non mi piace per niente il colore Proprio bocciato Ma neanche come mi sta Mi sta strettissimo di seno Ma veramente veramente stretto Mi sento comprimere Per il resto mi sta abbastanza bene Ma il colore non mi dona Non mi dona come mi Cioè non mi piace per niente E neanche il colore non era così dal sito Praticamente è un marrone alle spalline E fino a qui tutto ok Di seno mi sta strettissimo E voi calcolate che non l'ho neanche chiuso Perché forse non sono niente Che voi calcolate è una 0XL È un marrone con dei puntini celesti e gialli Più celesti che gialli Ma è marrone Cioè non mi piace proprio nel colore E ha questa lampo di lato Però non mi si chiude Cioè non mi si chiude neanche la lampo in realtà A me Quindi non Già mi stava stretto Poi ho provato a chiuderla No Ma anche se mi stesse bene Non mi dona per niente Come vestito Qui Che vi faccio vedere È molto carino Aspettate eh Non prendete tutto quello che vi dico alla lettera È molto carino È super 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 leggero Solo che a me Non mi piace Uno come mi sta E due mi fa difetto Tipo qui Cioè è un po' strano Perché In alcune parti mi sta largo In altre mi sta bene E in altre mi sta stretto Cioè non lo so Sinceramente non ho proprio capito Ultimamente sia le taglie di Shane Che proprio Come sono fatti La fantasia È bella Cioè è veramente carina la fantasia E È anche fresco Quindi adattissimo per l'estate Adattissimo per ciò che volevo io Ovvero quello di andarci al lavoro È fatto Così a bretelle Però praticamente Può mettere anche Il braccio qua dentro In modo che hai le bretelle qui E questa mezza manica Qui Non è neanche troppo scollato Anche se non si direbbe E poi È lungo sempre di questa fantasia Con i fiori rossi E rosa Questo qui Ero in dubbio E forse ancora sono in dubbio Se tenerlo O fare il reso Ma sicuramente lo terrò Perché ha uno scollo particolare Però è veramente super leggero Cioè il materiale di cui è fatto Non è plastica Come l'altro che vi ho fatto vedere Cioè I materiali di questi vestiti Sono pure belli Sono pure freschi Adattissimi Ripeto Per l'estate E per ciò che volevo io Solo che Se non fosse che non mi dovranno Questo qui È un po' particolare Sicuramente Era questo Sicuramente lo terrò Perché ha queste balze A me non mi durano le balze Fondamentalmente Però questo qui Si mette così Praticamente Però sicuramente Questo al 90% Lo tengo Perché fondamentalmente Mi piace E qui è elastico Ed è fatto Tutto di questa Fantasia E qui è un po' particolare Il vestito di Shane Qua non ho avuto dubbi Cioè qua non ho avuto Veramente dubbi Appena l'ho provato Ho detto questo Lo tengo al 100% Mi è piaciuto un sacco Sia il materiale Che la fantasia Che come mi sta Che tutto Ed è molto simile A una tutina Che ho preso l'anno scorso È fatto Anche questo Con le maniche Cioè Lo stesso modello Di quell'altro Solo che Materiali diverso E Cioè Come farvi capire C'è sempre le barze Qui È Stretto Sul seno E Elastico In vita Però mi piace troppo Cioè guardate la fantasia È più bianco C'è tipo Un bianco panna Con tutti questi Fiorellini Mi piace Un casino E questo qui Non ho avuto dubbi Che al 100% Lo tenevo Sì Erano i vestiti Di Shane Ma ho preso Anche Dei Accessori Diciamo così Ho preso anche Un paio di scarpe Che però Se ma vi lascio la foto Non ve le faccio vedere Perché stanno sopra Ancora devo provarle Anche lì Ero tentata Di rifare il reso Ma le terrò Perché anche per fare palestra A casa L'ho pagata i 15 euro Quindi alla fine ci sta Allora Primo accessorio Questo qui È un porta gioielli Sinceramente Se posso Farò il reso Perché pensavo Fosse un pochino Più grande Ma non so se vedete È fatto proprio male Tutto storto E non si addrizzano Anche qui È tutto Ammaccato Cioè Super fail Questa volta Comunque Quest'ordine Poi Beauty blender Anche qua Sono abbastanza morbide Dico abbastanza Poi devo Un attimo Provarle Anche queste Non so se rifare il reso Cioè Sapevo che Alla fine Le spugnate di Shane Non potevo immaginarmi Chissà cosa Comunque non potevo Aspettarmi Chissà cosa Però Me l'hanno Anche guidate Tutte Ammaccate Non lo so Tinta bianca Questa qui La amo Ho il modello nero La metto tutti i giorni Una delle poche tinte di Shane Che non mi si rovina Tutte le altre Già mi si sono rovinate tutte Pagare poco Valere poco Come si suol dire E l'ho voluta prendere anche bianca Perché non avevo una cinta bianca Questa qui mi piace tantissimo Quindi ho voluto acquistarla anche bianca Bellissimo questo Qua ho preso Un porta beige Rosa Con tutti i fiorellini Perché Essendo che mi hanno rinnovato il contratto Adesso devo timbrare Sia l'entrata che l'uscita Da quando attacco e quando stacco E ho deciso di comprare Il porta beige Qui ci metto il beige del mio lavoro E lo lascio in macchina Così Vado Beggio Come dicono le mie colleghe E me ne vado Bellissimo Poi ho comprato Questo per la macchina Sembra super buono Per togliere tipo la polvera sulla macchina Ho comprato un po' di cover Questa qui Con scritto S Questa qui Trasparente Con i brillantini E questa qui Completamente Trasparente Poi Ho preso I soft Pock Vabbè quello per tenere il teletro Adesso non mi viene in mente Come si chiamano Comunque di questa fantasia Bellissima Purtroppo non si vedrà mai Secondo me Dalla macchinetta Quanto è bello E questo Effetto marmo Questi erano i miei acquisti Di Shane Come sicuramente avrete visto Quasi tutta la roba La renderò Farò il reso Sono rimasta Veramente Veramente Delusa Da questo Ordine Veramente tanto Spero che il prossimo Andrà meglio Perché sicuramente Acquesterò altre cose Io detto so Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Cliccate mi piace Condividere con le vostre amiche Amici Iscrivetevi al canale Fatemi sapere qui sotto Quali vestiti Secondo voi Avrei dovuto tenere E quali avrei dovuto Effettuare il reso Detto ciò Vi saluto Un grande bacio E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazze